Gentili telespettatori, siete collegati con lo stadio comunale di Casteltermini per questo anticipo della settima giornata del girone di andata del campionato di eccellenza. Campofranco Mazzara, Ribera con un solo gol, fischio d'inizio dell'arbitro Somma. E' il Mazzara che con Sicurella mette dietro per Barbera, guarda in avanti il numero 5, giallonero, Provenzano che con Alderuccio forma la coppia difensiva del Campofranco. L'incompensa di battere questo calcio di punizione, attenzione adesso Polito, guarda un po' per Panepinto, attenzione Panepinto mette dietro, viene anticipato Messina. Ottimo l'intervento di Capitan Toni Giacalone che sulla palla Sicurella per Salvatore, il tiro, ribatte la barriera Ciccio Galeotto, esce Bardizzone, batte la palla a terra, ferma la palla il numero 7 giallorosso, mette in mezzo per Galeotto, il tiro, para il numero 1 Ilario, verosimilmente in aria. E così è infatti il cross, c'è il triangolo, batte e ribatte il tiro di Gimo, termina fuori, Polito in mezzo per Galeotto, raggiunge la palla Galeotto in aria, mette in mezzo Privitera, non riesce a tirare. Salamano a indicare il calcio di punizione in seconda, mette in mezzo, pericolo, nessuno tocca ancora il Campofranco con Galeotto, Galeotto ancora il tiro di Galeotto, di pugno, Ilario scusate ancora in mezzo, Messina, occasionissima per il Campofranco che continua ancora. Ardizzone, mette in mezzo, non passa, c'è il muro, fallo laterale, Galeotto, Polito, sulla destra Polito, lancia per Ardizzone, mette in mezzo Ardizzone, ancora un'altra azione pericolosa, triangolo con Gimo, ancora Gimo, attenzione, il tiro di Gimo, para, sempre vivo. Ricordiamo un paesino di 3.400 abitanti, in eccellenza, Panepinto, il tiro, termina fuori il tiro di Panepinto contro Messina, Polito, Messina e Panepinto da questo lato, Polito, Polito, lancia per Messina, attenzione, rete, rete, rete! Autogol, incredibile, il tiro di Messina, anzi il tiro di Polito che era un passaggio, e c'è Panepinto, il tiro, rete, 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 incredibile, incredibile gol di Gioacchino Priviterra! che mette in mezzo, il tiro, indica l'assistente con la bandierina che c'è stato qualcosa, ancora Messina mette in mezzo, il tiro, fuori, alto, controlla Ilario, ancora Sicurella in avanti, supera la fascia mediana del campo, supera ancora due avversari, Gimo, triangolo, Sicurella, il tiro, bellissima azione, sovrapposizione di Lombardo, Russo lo serve, Lombardo mette al centro, para, sempre vivo, ottima, attaccato da Ardizzone, Gimo, ma esce in mesi con esperienza, fischia il signor Somma! finale di Casteltermini, tutto è pronto per questo secondo tempo tra Campofranco e Mazzara, numero 7 del Mazzara, cerca di liberarsi di Provenzano, scarica dietro, Gimo, attenzione, Gimo, 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 esce! sempre vivo, protetto da Alderuccio e fa sua la palla, attenzione per Fuschi, Fuschi, Gimo, il colpo di tacco a seguire, termina fuori, Panepinto, Ardizzone, mette in avanti per Polito, attenzione, è in posizione regolare, Polito, Polito! miracolo di Ilario, ancora, batti e ribatti, si mangia, si divora, un gol, fatto, malecito, parte Giacalone, il tiro, termina alto, con baricentro, il tiro del numero 6, Tony Giacalone, dai 30 metri, in due tempi, sempre vivo, Gimo, quasi imprendibile, nelle giocate, corte, ancora, e lui, Gimo, passa per il tiro, attenzione, sfiora questa volta il palo Sicurella, Panepinto, ancora in mezzo, supera il suo versaglio diretto, il tiro, para Ilario, buona parata, non misione di Immesi, Lonigro, Panepinto, in mezzo, ancora il tiro, Rete, 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 Rete! Cosimo, Panepinto! Schia, attenzione, sulla destra, per Russo, Russo, ancora in area, Russo, il tiro, termina direttamente fuori, Salvatore, Panepinto per Galeoto, Galeoto mette in mezzo, attenzione, Polito, il tiro, fuori! Panepinto, mette in mezzo, colpo di testa, velo di Messina, attenzione, il tiro, e c'è la Rete, Rete, Rete! Ha segnato, Fabio Messina, interamente in porta, fischia l'arbitro, parte Salvatore, il tiro, splendida, la risposta di sempre vivo, di Leo, attenzione, adesso Gimo, 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 perde palla, Gimo, il tiro, sempre vivo, dice ancora di no! Gimo, supera, e mette in avanti ancora per Gimo, il tiro, e Rete! Bellissima la Rete di Gimo! Grande giocata! Il pubblico lo applaude, lo chiama, perché le giocate belle vanno comunque applaudite! Applaudite! A uno, la capolista Mazzara, e termina così, quattro a uno! Mister Putaggio, possiamo dire una bella partita, giocata da due squadre che giocano a calcio, il risultato forse un po' pesante? Penso di sì, se calcoli che i primi venti minuti, prima fino al gol, noi eravamo padroni del campo, abbiamo anche creato una buona occasione, Poi abbiamo preso quel gol, è chiaro che i ragazzi si sono un po' abbattuti, essendo tutti giovani, parecchi giovani, è normale che non è facile reagire Però, come hai detto tu, una buona partita, ottima il campo franco, sapevamo che era una partita difficile Comunque ce la siamo giocate a viso aperto, è chiaro che senza dubbio il risultato è molto pesante Il Mazzara in questo campionato, cosa vuol fare? L'obiettivo nostro è salvezza, il primo possibile, chiaramente la valorizzazione dei giovani, avete visto in campo diversi 94, 95, qualche 93 Dico, è chiaro che l'obiettivo rimane quello, siamo là sopra per adesso, ma è chiaro che per noi rimane sempre quello di raggiungere la salvezza il primo possibile Gianluca Pisciotta, giovane, rampante, direttore sportivo del Mazzara, una buona partita, anche se il risultato è stato pesante? Sì, diciamo che il campo franco è stato superiore a noi, ha trovato un gol su un errore difensivo nostro, ha sfruttato meglio le occasioni Comunque noi non ci dobbiamo rammaricare perché alla fine siamo sempre primi in classifica, la prima sconfitta della stagione, abbiamo fatto 5 vittorie, un pareggio Comunque complimenti al campo franco, una squadra di categoria superiore a mio avviso Domenica prossima vi auspicate una pronta ripresa con il Valderici? Sì, domenica puntiamo a vincere questa partita, è importante per i ragazzi perché abbiamo un gruppo di giovani Il mister è molto bravo a livello psicologico ad aiutare questi ragazzi settimanalmente lavorando giorno per giorno Comunque già da mercoledì abbiamo la Coppa Italia, il ritorno contro Gibera, speriamo di passare il turno Comunque domenica fare una buona prestazione contro il Valderici Il Mazzara era imbattuto, aveva la migliore difesa, cosa è successo oggi? È successo che noi abbiamo fatto la partita perfetta Quindi siamo stati bravi a finalizzare il nostro gioco, quello che non abbiamo fatto in altre partite Quindi giustamente forse loro non si aspettavano il nostro potenziale offensivo Perché comunque oggi devo fare complimenti ai ragazzi, ma tutti, tutti perché non ho perso mai la testa È vero che abbiamo scegliato all'inizio quindi è scivolato tutto bene Però credo che comunque non abbiamo fatto le presenti prestazioni in una partita del genere Però si vedeva che la squadra aveva qualcosa di buono anche a livello di impianto di gioco Quindi abbiamo ribadito la nostra forza, la nostra voglia di giocarcela con tutti Quindi speriamo bene, però adesso bisogna archiviare subito questa partita E pensare alla prossima che incontriamo la San Cataldese Che è anche una delle pretendenti a arrivare nei primi posti Presidente Mazzara, adesso si comincia a avere paura sportiva di questo suo campo franco? No, paura no, però diciamo che adesso noi ragazzi hanno giocato nel campo dove normalmente si allenano Nel campo dove sono abituati a giocare E chiaramente i risultati si sono visti perché abbiamo visto un bel gioco La gente si è divertita e insomma siamo tutti contenti Al di là della gara di oggi, unanimemente da tutti condivisa Cosa vuol fare questo campo franco? Ma no, il campo franco vuole fare bene per la città che merita Per la gente che la segue con questo calore E quindi continuerà sicuramente a cercare di arrivare il più in alto possibile in questo campionato Poi vedremo, è chiaro che stiamo puntando ai playoff Però dico, oltre mi sembra un po' troppo La domanda nasce spontanea anche se è fuori tempo Altri arrivi? Ma altri arrivi in questo momento no In questo momento va bene così La squadra peraltro gioca bene, si esprime bene Il nuovo si è inserito bene Anche Lompardo oggi, quei dieci minuti, si è visto che ha grande voglia, tanta voglia Quindi diciamo che la squadra va bene così in questo momento Una gara super tua e di tutti i tuoi compagni? Sì, diciamo che oggi è stata la partita perfetta Non abbiamo sbagliato nulla Abbiamo creato parecchie palle goal Sapevamo che non era facile incontrare la prima in classifica Però questo è il vero campo franco Diciamo che ci siamo divertiti tutti Ho fatto anche con l'io, a parte la prestazione personale Tutti i miei compagni hanno dato il 100%